Canti natalizi con qualche esibizione di body percussion, inno di mameli ed esecuzione di brani con flauto dolce. Tutto questo nel concertino della piccola accademia di musica del circolo didattico Amiternum, rappresentato dai due plessi di Arischia e Santa Barbara e che si è tenuto nel pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Un modo per portare musica, colori e auguri di Natale ai piccoli pazienti. I bambini del circolo del dirigente scolastico Carla Marotta sono stati guidati nel concerto dalle insegnanti di musica del circolo Maria Teresa Selli e Dora Ruggero e dalla maestra ospedaliera del circolo Filomena Deramo. Un concerto emozionante, questo suonato dai piccoli alunni in organico completo con tutte le classi terze e quarte del circolo, che ha avuto repliche anche nella palestra della scuola Maria Leventre e nella chiesa di Pettino.